Ben trovati e benvenuti in questo nuovo video Finalmente siamo qui per gara 1 di Varano Come avrete potuto ben vedere dalle qualifiche purtroppo il motore non andava nulla Abbiamo provato a sistemare varie cose, sono stati cambiati i sensori Abbiamo pensato che potesse essere un problema di benzina Abbiamo preso della benzina nuova, abbiamo provato a fare svariate modifiche ma nulla Non si migliora, non c'è nulla da fare Cerchiamo comunque di limitare i danni per quanto riguarda il fattore motore Ovviamente ce la metteremo tutta e speriamo che vada come deve No No Grazie a tutti. 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 Bene, adesso che ho il palmiere davanti e il maciato davanti, devo mettercela tutta per cercare di andare lì e prendermi il primo posto. Non è semplice, ma ovviamente siamo qui per quello. Come potrete ai miei ben vedere, il motore non va nulla. Sono costretto sul dritto a dover tirare la quinta perché se metto la sesta il motore muore, quindi tanto vale tirare la quinta e far scattare un minimo il limitatore. Veiamo bene. Grazie a tutti. 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 Ovviamente le cose non potevano andare per il meglio, no? Nel momento in cui sono passato secondo ho iniziato ad avvisare una strana vibrazione a tutta l'apertura. Speriamo non sia nulla di grave. Speriamo che non sia nulla di grave. Speriamo 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 non sia nulla di grave.